Ciao, sono Massimo Danieri, eccomi qua e finalmente ci rivediamo lì a Malta, precisamente alla Valletta, il 12 giugno. Ovviamente il piacere enorme perché è sempre un'emozione merive nella vostra meravigliosa isola. E niente, spero che lo spettacolo piaccia, la prendo con questo nuovo mio spettacolo che si intitola Sogno Son Nesto. Beh, ci vediamo tra un po', sì, tra circa un mese, vi aspetto tutti quanti, molti, tanti ovviamente, e staremo insieme e ci divertiremo, ok? Un bacio a tutti, ciao! Grazie a tutti!